Ciao a tutti e oggi finalmente riesco a registrarvi questo video che aspettavo di registrare da un bel po' in quanto si tratta di farvi vedere dei gioielli che ho acquistato da una pagina Instagram che ho scoperto un po' così per caso seguendo delle ragazze che disegnano e hanno fatto appunto vedere questi gioielli al che mi sono incuriosita e sono andata a vedere la pagina la pagina in questione è Bisulobly, ve lo scrivo anche qui sotto ed è praticamente una ragazza canadese appassionatissima di anime, di manga che crea questi gioielli proprio ispirati a questi personaggi anime e manga e lei stessa comunque ha dei tratti un po' orientali posta molte storie in cui proprio lei è circondata un po' da questo ambiente anime questo ambiente di personaggi appunto un po' fantasiosi ed è molto molto simpatica e praticamente crea questi gioielli che non sono affatto infantili, non sono pacchiani anzi sono molto eleganti, molto fini e mi hanno colpita subito la cosa che mi ha colpito in positivo è il fatto che di ogni gioiello e ci sono collane, anelli e orecchini c'è la versione, sono tutti argento e c'è però la versione argento, la versione color oro giallo e la versione color oro rosa per cui sono gioielli che di fatto accontentano i gusti un po' di tutti l'unica nota un po' dolente è il prezzo di fatto comunque ci sono delle pietre non saranno pietre di grandissimo oro però ci sono comunque delle pietre e comunque quelle un po' costeranno e comunque il prezzo è un pochino alto si parte da 80 dollari in su io ho preso due cose un anello e una collana e ho pagato in tutto mi sono fatto un bigliettino così non mi dimentico di dirvi tutto quello che vi voglio dire e ho pagato 162 euro comprese le spese di spedizione che sono di 16 euro no, 16 dollari americani e 95 centesimi quindi saranno sui 15-14 euro insomma più o meno e quindi ho speso 162 euro la nota dolente è anche oltre appunto al prezzo comunque non economicissimo il fatto che si paga la dugana io almeno l'ho pagata ho pagato altri 40 euro quindi a me in totale questi due gioielli sono costati 200 euro perché comunque essendo il Canada un paese extra Unione Europea si paga la dugana però per il resto devo dire che è stato tutto molto veloce inizialmente ho visto che le spedizioni in Europa erano bloccate perché con il fatto della Brexit praticamente credo dovessero ancora decidere bene come organizzarsi per queste spedizioni e quindi erano bloccate però ho visto poi controllando che la situazione è migliorata quindi si è risolta ho ordinato e praticamente ho aspettato nemmeno due settimane e il pacco è arrivato è facilissimo anche il tracking aggiornatissimo su ogni spostamento quindi il servizio funziona benissimo almeno questo primo ordine è stato così e sono felicissima del risultato vedendoli così su Instagram mi avevano colpito tantissimo questi gioielli sul sito lo stesso pensavo che però dal vivo avessero fatto un'altra impressione e invece no sono bellissimi quindi adesso vi faccio vedere come mi è arrivato il tutto e che cosa contiene il pacco perché anche il pacco è molto molto carino e che cosa contiene Allora, ok, il pacco mi è arrivato così, confezionato con questo fiocco e sinceramente è la prima volta che mi arriva qualcosa, quindi un pacchetto così quindi già questo secondo me denota la passione, l'attenzione che questa ragazza mette in quello che fa e aprendolo, al suo interno c'era subito la cartolina di Benvenuto, Bisulobli e lei ha appunto questo simbolo un po' così che richiama molto secondo me Sailor Moon, comunque personaggi di quel tipo e dietro c'è tutto un messaggio di Benvenuto e c'è anche un programma di raccolta punti che prevedono appunto un po' degli sconti però non ho ben capito se è riservato solamente a chi risiede negli Stati Uniti e in Canada o a chi risiede in tutto il mondo comunque poi vedrò, comunque c'è subito questa cartolina e il tutto era racchiuso in questa carta rosa con tutte queste stelle dorate che sanno molto di magia poi c'era questo bigliettino da visita anche qui Bisulobli mi piace moltissimo il logo e tutto questo sfondo con le nuvole e qui il sito quindi veniamo al contenuto del pacco allora innanzitutto c'era la bustina per conservare i gioielli anche questa con tutto il logo che non è ricamato ma è stampato e quindi niente, molto carina anche questa di questo bellissimo color rosa e c'era anche il panno per pulire i gioielli perché di fatto la mia paura è proprio quella che comunque io allora io ho preso due cose color oro rosa perché io non ho gioielli oro rosa la mia paura è che con il tempo si possono rovinare c'è scritto che comunque i gioielli questi bagnati sia nell'oro giallo che nell'oro rosa sono garantiti più o meno insomma comunque dovrebbero durare dai 2 ai 3 anni dopodiché andrebbero ribagnati e comunque ci sto molto attenta perché non li bagno non ci spruzzo profumi ci sto attenta quindi dovrebbero durarmi iniziamo subito dall'anello che è contenuto in questa bellissima scatolina ho visto che loro hanno anche le scatoline quelle che si aprono e hanno le lucine a led e quelle mi piacciono un sacco provarti che la prossima volta ne possa prendere una comunque l'anello è contenuto in questa scatolina rosa e l'anello in questione è questo allora degli anelli ci sono tantissime misure che vanno dalla 4.5 in su e io ho preso non proprio quella più piccola ma ho preso quella diciamo da 5 e mi va benissimo perfettamente sull'anulare no sul medio che sto dicendo allora l'anello che ho preso io è questo spero si veda bene ed è praticamente l'anello si chiama Diana Ring ora non so bene quale sia la posizione forse questa sì Diana Ring ed è praticamente fatto di pietra di luna e ho il fogliettino con gli appunti per ricordarmelo e dei zirconi bianchi quindi l'anello è questo è oro rosa e come vedete è molto molto delicato è veramente molto molto bello e niente io lo stra adoro e niente è delicatissimo mentre per quanto riguarda la collana io ho preso la collana Chloe che anche questa è fatta con pietra di luna e dei topazzi bianchi allora anche se non fanno parte della stessa collezione perché una è Chloe e l'altra è Diana secondo me si abbinano però perfettamente e l'avete visto anche dalla foto che vi ho appostato in cui vi indosso insieme e la collana praticamente è contenuta era fissata con lo scotch contenuta appunto in questo bellissimo cuoricino e la collana appunto in questione è questa che anche questa appunto secondo me con l'anello si abbina veramente molto molto bene e niente anche questa è bellissima ha questa catena molto sottile veramente molto delicata e c'è questo oro rosa che è qualcosa di bellissimo secondo me e niente io sono rimasta proprio stregata da questi gioielli trovo che siano troppo 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 belli e niente spero che si veda bene dalle riprese e spero che vi vediate bene anche dalle foto che vi ho messo comunque è tutto troppo troppo lucente troppo troppo bello sto veramente contentissima di questo acquisto quindi io spero che vi abbia fatto conoscere un marchio o comunque un brand che vi possa piacere che vi possa interessare perché io sinceramente me la sento di supportare questi giovani che hanno queste iniziative che riescono comunque a creare un'attività proprio sfruttando le loro passioni e quindi creando comunque qualcosa che ha un valore c'è uno studio c'è una ricerca c'è creatività e quindi non portano solamente contenuti banali o comunque contenuti veramente senza senso su internet e quindi fatemi sapere se i miei acquisti vi piacciono perché sicuramente non saranno gli ultimi quindi i primi sì ma non gli ultimi perché io ho deciso di acquistare qualcosina ogni mese di modo che possa farmi questa mia piccola collezione di questi gioielli che sono veramente bellissimi poi ho visto che spesso escono anche nuovi modelli e quindi sì sono veramente molto molto contenta quindi fatemi sapere se vi piace e noi ci vediamo al prossimo video ciao grazie a tutti grazie a tutti